Allora, signor Pattinson, lei sa come funziona qua? No, non so il cazzo. Qua siamo in territorio spagnolo. Il punto è, ci sono dei minigiochi che si alternano e ti daranno del teamer, però in realtà è un complimento perché vuol dire... No, ok, ok, sì, voi in spagnolo sono caduti nel vodka. Ma Pattinson, in Russia avete le auto e usate i carri romati? No, 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 in Russia non abbiamo né casa né auto, nulla, nulla, nulla. Solo vodka. Abbiamo vodka tutto il giorno con la tuta Adidas. Lo scopo è quello di essere il più tempo lungo possibile, come funzionano i punti, non sto capendo. Dovresti sostare sul quadratino rosso il più lungo possibile. Cos'è questo invece? Questo si chiama McDonald's, in pratica devi ammazzare i maiali, però solo quelli che hanno la tag con più punti. Ma perché mi accanite così tanto contro le bottiglie? No, 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 non è che mi accanisco contro le bottiglie, io uso le bottiglie come mezzo di accanimento. Che cazzo, qualche bottiglia è il mazzo fa meglio, eh? Bella per Pattinson, sei OP, altro che spagnoli. Ma signor Pattinson, lei non ha mai fatto il test dei livelli alcoli con il sangue? No, mai, 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 mai fatto. Come no? E ho paura, mi trovano non solo vodka. Ma alla guida lei è sobrio, vero? No, io guido solo trattori. Un trattore intangenziale. Buiamo vodka tutto il giorno con la tuta Adidas. Questo minigame ti insegna a rispettare la legge, credo. No. Che schifo. No, perché sono tornato indietro? Sto continuando a tornare indietro perché mi dimentico e ho bevuto, non sono abituato a queste cose. Ma anche in Russia si respira ossigeno? No, 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 in Russia si respira sempre alcol. Ma qual è la tua canzone preferita, Pattinson? Ne hai una? Sì, si chiama Facetta Nera. Ok, dietro dietro dietro. Questo è chi ce l'ha, il senere russo. Vabbè, dalla me, dalla me, dalla me. In Europa si gioca con le mani, qua giochiamo con gli esplosivi. Braa. È divertentissimo picchiare le persone. Che schifo di indietro. Ok, c'è ne uno dietro, uno dietro, uno dietro. È rubista, rubista, porco schifo. No, tutti scappano. Tutti ricordano. No, no, no. Te lo tengo, te lo tengo, te lo tengo. Alla fine è un pvp strano questo. Ma se la tenessi fino all'ultimo e poi la colpissi? Vai, vai, vai così. Nel frattempo picchio la gente perché mi va. Ok, ce n'hai uno a sinistra. Vabbè, ma anche così effettivamente è giusto. Ok, arriva. Perché la vuole dare per forza? Eh, due, uno. Grandi! Ok, perfetto. Voi che prendiamo lui. Sta qua lui. Quattro, tre, due, tre. Grande parte, sono Italia-Russia. Bro. No, 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 fino, 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 fino. Facciamo con diplomazia. Ok. Ok, bella vita. Ui! Oh, che vero. Ui, bomba! No, pari merito però, non è giusto. Abbiamo colonizzato la Spagna, altro che. Eh, invasione italiana-spanola. Ma perché non posso picchiare gli avversari o le vuole? Credo che la legge spagnola dica diversamente. Eh, non mi interessa della legge, io ci do tutto. Adesso, adesso mi arrabbio. Io non posso perdere il mio gioco preferito, McDonald's. Io, grande. Ho vinto, ho vinto, ho vinto. Quando si tratta di uccidere animali, io sono sempre, sempre il migliore. Penso sia abbastanza auto-esplicativo come gioco. No, non ho capito, sono fermo allo spawn che saltello da solo fermo. Boom! Ma si vince facendo più kill? Sì, in teoria. Sempre se colpire qualcuno con una palla di neve è considerabile una kill. E va bene. Sono palle spagnole, non le conosciamo. No, no, io conosco tutte le palle del mondo. Fai attenzione, è esperto di palle. Io amante di cultura, io filosofo. Amante di cultura, non di palle però. Sto diventando un palle, non va bene per niente. No, no, tutti, dopo che parlano come inizi, è sessualmente trasmettibile il mio accento. Io ho grande amante di scuola, ma a me non piace. No, io ho grande amante di... Ma questa è sempre la cosa dei perroni che devono scavare. Tipo la cosa più stupida dopo i... Come si chiamano gli OP prison che devi... Che letteralmente sei schiavizzato da Minecraft. Hai triggerato metà server del mondo. No, non mi interessa. Siamo uno contro uno adesso. 1v1, gioco della Sillas. Ma io, no, io mi devo, mi devo sedere. Pattinson, prima posizione, pole position. Attenzione, favorito. Russo in territorio spagnolo, si prepara? Lo prende, lo prende, lo prende! Perfetto. E guarda, guardami meglio che colione invece di Gero si deve fare. Devi essere umiliato. Devi essere, guardami. Devi essere tutto uno. F e il chat. Bella lì. Grande Pattinson. Insomma, abbiamo colonizzato la Spagna ufficialmente. Però loro mi colonizzano l'animo. Ho detto F e il chat senza la voglia. Sì, è un Lelli kelli Di queste carpine, oh yeah Sì, è un Lelli kelli Le più carine, oh yeah Lelli kelli Di queste carpine, oh yeah Sì, è un Lelli kelli Le più carine, oh yeah Sì, è un Lelli kelly Sì, è un Lelli kelli